Petrunia, ecco, ti ho scritto l'indirizzo per il colloquio di lavoro. Non dirgli la tua verità, digli che hai 24 o 25 anni. 32. Ne dimostri almeno 42. Dove vai? Bellezza! Titolo di studio? Laureata in storia. Avanti padre, butta la croce! Sposata? No. Scandalo senza precedenti. Una donna non identificata si è impossessata della croce. Mi straffa i capelli! È bella, vero? L'hai presa tu? Avrai un anno fortunato. Polizia, aprite! Tu lo sai che in una situazione come questa non possiamo obbligare la donna a restituire la croce? La vostra famiglia è religiosa? No. Sì. Quella donna è il diavolo in carne e ossa. Non capisco qual è il problema, né perché l'hanno arrestata. Cosa avrebbero fatto se Dio fosse stato una donna? Ha infranto tutte le regole. Padre, quali regole? È davvero un problema così grande se una donna prende la croce? Potrebbe lasciarci un commento sulla donna che ha preso la croce oggi? Ma andatevene un po' tutti a fare il culo.